Importanti novità sulla messa in sicurezza della Galleria di Belmonte del Sannio sono arrivate nelle ultime ore. La Direzione Generale per la Sicurezza delle Strade del Ministero delle Infrastrutture ha infatti annunciato ufficialmente alla Regione Molise e alla provincia di Sernia il proprio parere favorevole alla richiesta di finanziamento urgente per la manutenzione straordinaria della strada provinciale 86, con particolare riferimento al tunnel di Fonte Valloni, chiuso otto mesi fa a causa di infiltrazioni d'acqua. Il provvedimento si riferisce alla riprogrammazione di fondi europei, così come detto tempo addietro dall'assessore regionale alla viabilità Pierpaolo Nagni e per questo si era reso necessario il via libera definitivo dal Ministero. Superato a fatica questo ostacolo e solo con un ragionevole ritardo rispetto ai tempi previsti da Nagni, resta da mettere l'amministrazione provinciale di Sernia nelle condizioni di poter operare. Proprio ieri l'ente di via Berta, attraverso il consigliere delegato alla viabilità Mike Matticoli, ha fatto sapere di essere nelle condizioni di indire immediatamente la gara per l'assegnazione dei lavori, ma a patto che la Regione assuma un impegno di spesa. Il parere favorevole del Ministero dovrebbe finalmente sbloccare la situazione di stallo che si era venuta a creare. Dopo otto mesi di attesa c'è dunque una buona notizia per pendolari e lavoratori abruzzesi e alto molisani. Erano arrivati a proporre anche una raccolta di fondi autonoma pur di far avviare lavori. Non ce ne sarà bisogno, burocrazia permettendo.